La lotta al cosiddetto pezzotto utilizzato per truffare le piattaforme televisive che detengono i diritti per trasmettere in chiaro le partite di calcio è entrata nel vivo. E' quanto emerso durante un incontro che si è svolto nel centro congressi del Giambo a Trento la Ducenta in provincia di Caserta con l'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo che ha illustrato in che modo le istituzioni hanno deciso di affrontare il problema della pirateria televisiva. In meno di mezz'ora siamo in grado di spengere le IPTV che sono lo strumento più utilizzato ma è una battaglia tra guardia e ladri. Si continuano a inseguire perché i pirati hanno risorse economiche estremamente rilevanti e quindi siamo entrati nella fase 2 in cui lo strumento tecnico si evolverà grazie a una modifica del software ma soprattutto stiamo aggredendo anche i motori di ricerca che consentono di rintracciare le informazioni che poi con cui gli utenti raggiungono queste applicazioni. La fase 3 sarà quella di perseguire gli utenti con delle multe estremamente salate. Intervenuto al convegno anche il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cyber Sicurezza Bruno Frattasi. La cyber sicurezza è qualcosa che dobbiamo rafforzare sfruttando il più possibile a nostro vantaggio le tecnologie emergenti. L'incontro moderato dal direttore del quotidiano Il Mattino Roberto Napoletano è stato voluto dall'amministratore giudiziario del centro Giambo confiscato tempo fa alla criminalità organizzata Luigi Moscato. Quindi facciamo tante attività per il territorio circostante ma anche per infondere la cultura della legalità. Presente anche l'amministratore delegato di Tribù Riccardo Maria Monti e il direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro.